Manifestazione ieri mattina sul lungomare di Napoli da parte del presidente della prima municipalità Chiosi che assieme a dei cittadini e dei commercianti ha chiesto l'eliminazione dell'aiuola spartitraffico che si trova in via Caracciolo alla confluenza con via San Nazaro. L'aiuola ha spiegato il presidente spezza il flusso di traffico che collega la parte occidentale con il centro della città. In pratica tutto il traffico proveniente da Bagnoli, Posillipo e la collina di Posillipo è costretto a incanalarsi in via Mergellina per poi intasare piazza San Nazaro. Una follia tutta partenopea ha spiegato Chiosi che ai nostri microfoni ha sottolineato. Qui ogni giorno lo smog arriva alle stelle a causa di questa aiuola che è stata impiantata dall'amministrazione comunale per chiudere di fatto il lungomare. Un lungomare che però adesso è aperto visto il crollo della riviera di Chiaia e questa aiuola appunto non ha più senso, non ha alcun senso. Si crea un blocco in piazza San Nazaro tutte le mattine e tutte le sere, queste sono solo alcune delle fotografie che abbiamo scattato e appunto stiamo protestando perché per le vie istituzionali non siamo riusciti a convincere l'assessore a rimuovere questa aiuola. Oggi protestiamo con i consiglieri della municipalità, gli assessori ma anche con i semplici cittadini che sono qui e che testimoniano come ogni giorno questa zona è resa sempre più invivibile da questa amministrazione comunale.